Dai stavo il gioco! Posso farlo vero? Sì che posso Dai! Andrò a vedere Ok Dai basta E' vincito! No lo sapevo Ho iniziato a fare le live ogni giorno su Twitch Quindi mi raccomando vinimi a trovare facendo la sub gratuita con Amazon Prime Oh dunque sono andate avanti le giovinciolle Ebbene sì ragazzi siamo ritornati di nuovo a rompere le scatoline alle mie amichine Mi raccomando iniziate a lasciare tantissimi like Perché sappiamo benissimo e io so benissimo quanto a voi piace ok Tutto questo ovvero io che rompo le scatole alle mie amiche nonché dolcetta e ivy Di conseguenza iniziate a lasciare talmente tanti like che dovete rompere il counter dei like Dovevo vederlo rotto proprio con il pollice e con il gesso ok Bene quindi di conseguenza mi raccomando per le spese mediche al pollice gliele pago io Comunque in ogni caso qua stanno andando avanti ok Di conseguenza come potete ben vedere hanno il grano hanno le patate hanno pure Poi non c'è in realtà è da una settimana e sono ancora qua So benissimo che tipo loro per quello che ho capito veramente fanno schifo nella survival Appunto però in ogni caso io glielo andrò ulteriormente a rovinare come d'altronde un amico del cavolo sono Ciao ragazze Ciao Come state Tutto ok perché sei qui Perché non lo so Volevo un attimo Vedere dove siete arrivate Per forza Come li hai messi nella cassa Come ve la state passando Ciao Bene Ciao Ciao Cosa ci fai qui qui Eh io niente Stavo passeggiando nei multiversi di minecraft E ho notato che voi eravate dentro questo Sei noioso Vuoi vedere cosa abbiamo fatto Un tour Voglio vedere veramente cosa avete fatto Gli faccio il tour Aspetta posso mettere qua Vai vai Ok Mamma mia Ma quanto sei pigra Mamma mia Ci serve anche per la qua Esatto Ah ah Però guarda qua Non puoi metterla perché c'è la scala Ah Sfigato Eh no è meglio perché poi Arrivano gli zone Non ne voglio Sì infatti Quindi esatto Ok mi trovo bene In ogni caso Che stai facendo Non lo so Vabbè comunque Voi dove siete arrivate come vi stavate dicendo Vuoi fare Allora vieni qua Guarda fuori Allora sì vediamo Allora innanzitutto abbiamo ricostruito Il cartello che ce l'avevi distrutto Poi abbiamo fatto due farm Ah ah Esatto grazie Vediamo Ah ok sì vabbè le patate Poi il grano Mi pare giusto Beh Esatto esatto E qui abbiamo le mucche Dall'altra parte Beh certo che dobbiamo andare avanti no Eh sì sì Cioè dico Io se fosse stato per me Già sarei avrei ucciso Il drogo dell'end Però comunque Poi state Addirizzo Eh sì sì Vabbè A volte mi scordo che siete Scarse nel sur Scusate Scusate Non è colpa nostra Scarsa 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 No senti Cioè Perché È questo Io non ho fatto nulla Non è vero No Perché dovresti pensare Ma io ero con te Come ho fatto a stare Noi siamo in game mode Com'è che siamo riusciti A fare tutto questo Senza Nessun disturbo Poi arrivi tu E magari Spaccare E magari Spaccare lui No no si vuole Si vuole Vabbè dai vabbè Dai 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 Ve lo tolgo Ve lo tolgo Ok Allora vai Ah avevamo ragione Che è di tuo Mamma mia Fammi andare a vedere Un attimo la miniera Dai voglio andare a vedere La miniera Ah sì abbiamo Usato quello che Che simpatico Che bravo Tra lì con la porta io E noi che abbiamo fatto Pure le gentili Dai basta basta Dai basta basta Che cattivo Perché non posso picchiarti Perché non posso picchiarti Mamma Sto registrando E che significa Sto registrando Vabbè comunque In ogni caso Mia madre è entrata Nella inquadratura Tra l'altro Quindi avete visto Mia madre come se Già non l'aveste visto E praticamente tipo È successo Vedete È tutto real Tu te ne puoi andare Sì infatti Perché tu immagina Stai registrando Esatto ovviamente Ecco grazie Vai basta Vi libero Vai fatemi un attimo Andrò a vedere Ok Dai basta È vincito Basta basta Andiamo Andiamo Allora Ma perché Ah questo non sono io Questo non sono io Ok bravo Questa è mai Cresì Andiamo Andiamo Voglio andare a vedere Un attimo Allora Qui la situazione è precaria Non azzardarti a fare niente Voi Che pezze di cacca Avete sfruttato il mio La mia trappola E la besta C'hai distrutto tutto E di un po' tu E dunque Avete sfruttato la cosa Wow Facciamoci una miniera Bellissima Infatti Non abbiamo ancora finito Ci sono dei diamanti Lì sotto Che l'ultima volta Non abbiamo preso Perché dobbiamo finire la stradina Io non ho coverstone Va bene dai Probabilmente lì ci usci direte Andando ad andare a prendere Probabile Vabbè dai Adesso Guarda Guarda come gesto ne sale Guarda come gesto ne sale Via Sì Io devo menzionare una cosa Non posso menzionare una cosa Non posso menzionare una cosa Qui Corri Ferro Devo metterla a cuocere Quaci Dai sto menzionando Posso farlo vero? Sì Che posso Noi Certo Pietra No No Non vale Non vale No Sì Si sta griffando casa Non so cosa fare Non è vero Non è vero Non so già dove mettere le cose Perché ogni volta Abbiamo fatto una settimana Calma Dai Così tranquilla Allora No Io voglio insegnarvi Ok questo È uno step in più Ok Che c'è Io non vedo niente Vabbè comunque Non è il caso Comunque C'è uno step in più Ok Ovvero C'è l'hardcore C'è la storia normale C'è l'avventure C'è l'hardcore C'è poi l'hardcore Quella proprio brutta 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 Moddata E poi C'è l'hardcore di Sbrizer Che c'è Sbrizer Che vi caga Le scatole Le scatole Ecco Ma Perché non possiamo farne una tranquilla Va bene dai Vi lascio stare Ho capito Sono ogni volta Volevamo fare l'hardcore Noi Volevamo fare una partitina Avete ragione Avete ragione Avete ragione Tanto non se ne andrà mai Lo sai Sì Lo so Si sente anche che scrive No io non sto scrivendo niente Allora io ho solamente droppato Ok Un piccone Questo piccone non potrò mai far nulla Ok E poi è che noi lo siamo Aia Aia Ok Ehi ragazze Ma quella cosa che cosa Basta 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 Fami prendere Ara un ascia Che ci fai con l'ascia E' vero cosa ci fai con l'ascia No c'era questo legno qui Che mi dava fastidio Non lo voglio No Mi però Io sbaglierebbe sul plate Comunque se ne sbagliamo Perché non va Oh mio dio Sì Togliere Vai 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 Continua a costruire Perché la pedro Ah è carina Così non può spaccare Vabbè si Scusate Io posso farmi la casa Vicino alla vostra Tipo Mi serve però Tipo devo fare Solamente tipo Una porta Cos'è questa TNT No 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 Guarda te la faccio io La porta Aspetta Faccio io No 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 Ok Mi serve una porta Oh mio dio Una porta Hai fatto tutta la stanza Dai Mi Picchia La vai a picchiare Chiudilo qua Chiudilo qua Chiudilo qua Dai sto scherzando Sto scherzando Dai scusate Scusate Ok scusate Oh oh Allora Quale Chi nelle vanille Ha un letto del genere Don dovreste ringraziarmi È la storia Facciamo una cosa Facciamo una cosa Allora Se voi seguite Tutto quello che vi dico Vi do i diamanti Ok Vi do i diamanti Ma li abbiamo Ok Allora Stavo dicendo Sprenghi I diamanti Se li volete No ridacceli I diamanti Che vi ho dato Dovete fare Quello che vi dico io Va bene Vado a prendere i diamanti Per conto mio Ecco No No dai ragazze Dai Ho detto di no 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 Ho perso tutto Vabbè sì ora ci servono I diamanti Comunque Sto prendendo anch'io Sto prendendo anch'io Con i diamanti Sono portato Con i diamanti Ho sbagliato Ci devi dare Il triplo indietro Il triplo Mi ha fatto perdere Tutto l'inventario Sei pure Tu scema Te lo devi ricordare Che c'era un buco davanti Ma poi mi spiegata Per quello motivo Fate le survival Nella mappa Della craft university villa Ma perché Mi ho trovato questa Mi Ho capito Mamma mia Dolcetto ti preoccupato A fare lì perché Stoni le orecchie Mamma mia Meritimi Oh che male Casa ridi Mi hai fatto perdere tutto Ti do tutto Ormai ho già l'armatura Quindi non ridarmi l'armatura Ecco Va bene Avremo una in più Ho capito Erano Erano tre diamanti Cioè due stacchi di diamanti E qualche altro Ok Ce ne devi Il doppio indietro Li hai persi Va bene Va bene Vi do il doppio Vi do il doppio A patto che Dovete fare tutto quello che vi dico io In questo momento Che fatto è? Colpa tua Dovete fare Simon Come si dice? Simon Simon dice Ok Sbrizer dice Come si dice? Ok Come si dice Simon dice Allora Simon dice Sapete no Che tipo uno cammina Tutti quelli Cioè Simon tipo che ne so Saltelle E quelli dietro Dovono saltellare Adesso anche loro Dovono fare così Ok Ok Bene Giochiamo questo gioco Basta ci rilasci in pace Venite Venite Sei pronte? Sì Non ho una spada Vabbè Uno Via Chi sbaglia Muore Ah Guarda se mi devo concentrare Per fare questa cosa Andiamo da questa parte Ah No È perché c'è il tuo effetto Ah Sto avendo paura Sto molto avendo paura Vai Andiamo avanti con te Andiamo avanti con te Brava Grazie Andiamo avanti Sì Poi questa parte Sei troppo Sei troppo brava Per i miei gusti Non è colpa mia Ah Vabbè Andiamo avanti Ok Ah Sei morta Dai ma non vale Sono qua Va bene Ma sono qua Hai ragione Hai ragione Hai ragione È un dono Vai Ma come è possibile Ma che cavolo Oh mio dio Vattene via Vattene via dalle scatole Sono qui No Basta seguirmi Devi morire Ti ricordo che è stata una tua idea Sì Ecco l'acqua Ecco l'acqua L'acqua ti farà confondere Guarda sono Mosè No Aspetta Non puoi Non puoi Perché non posso Perché posso fare così Sono qui No Che è simpatico Vabbè Non lasciaci giocare In pace Va bene Va bene Basta 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 Ok Allora Adesso basta Vi lascio stare Ok Senza Subito tutti i diamanti Tutto quello che vi serve Va bene Va bene Va bene Aspettate un attimo che l'aggiusto Ok Perché ovviamente Cioè io Allora Io sono entrato Perché Cioè Appena io sono entrato Voi sapevate che vi facevo gli scherzetti No Quindi già lo sospettavate Quindi Ci stavate No Ho sbaglio Ma che tornavi Speravamo di no Abbiamo detto Vabbè L'ha già fatto Eh tu sai che Surtroppo è che io non mi mangio mai i titoli per i video Quindi di conseguenza Già saperi che Io arrivavo A fare qualcosa di diverso Quindi Questa volta però dai Vi metto anche lo spawn point qua Così almeno se morite morite qua Vi do i diamanti Tenate Il triplo come avete detto voi Le armature Vi do questo 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 E questo Ok Grazie E poi Figurati E poi questo Questo E questo Ok piccone E la spada Ok E poi piccone Perché è di Di legno Perfetto Come? Di cosa stai parlando? Questo Ma è la spada dei pirati Sai quanto sono forti i pirati Con le spade di legno Io ho una spada Ti sembra un pirata? Ti sembra un pirata? A me l'ha data in ferro Eh vediamo il piccone Eh vabbè il piccone Ok No dai va bene Va bene Basta Basta Ok ok Basta Tenete 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 Piccone E spada Ok Va bene Adesso non vi lascio Ok Non vi do più Non vi lascio stare Ok Va bene Certo Ci crediamo No 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 Veramente Vi lascio stare Vi lascio stare Ok Ci sentiamo dopo allora Ok Ciao ciao No 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 Hai l'acqua Mi Mi c'è chiud'acqua Non ce l'ho Oh mio dio Ho fatto un casino Ho fatto un casino Aspettate Non volevo Scusatemi Scusatemi Non volevo Non volevo Vincere Non volevo Cosa ha fatto No Non c'è Sbrigati Chi va dei pompieri Cambiati Chi va dei pompieri Aspettate Non volevo Ci siamo noi I pompieri Ok Ovvio Vi ho dato i roll Che al bocello Dai via Così Easy Certo Sì Ma che ne era Utile per qualcosa Quell'albero Ottimo Perfetto Allora Ma io dico una cosa Ok siamo in un pacchetto moddato Perché non vi mettete Porca di quella miseriaccia ladra Mannaggia La ladra Ehm A fare tipo Non lo so Tipo delle cose d'arredamento Tipo che ne so Ci mettete qua Una bella sedia Ma Ma non sarebbe più vanilla No Eh ma a priori Già se siete nella 1.8 Dici moddata Amica è vanilla Ok Eh ma io a noi Mi sentiamo già Moddato Esatto Ehm Appunto Tipo questo Salute Cos'è Che cos'è No no È stato quello Non l'ha fatto nessuno Ehi No adesso sto scherzando Sto scherzando Ehm Però avevo notato qualcosa di strano Ehm Tipo Tipo Vabbè niente Ci vediamo Che paura Sì anche io Vabbè sì ciao Arrivo con qualcosa di peggio Aspetta un attimo Comunque avevo notato Vabbè ciao eh Che cosa Allora ve lo faccio vedere io esplodendo Tranquilli Quando mi accorgo che posso fare di meglio allora Aspettate un attimo No Ma davvero Davvero Siete cadute da sole Non è caduta lei No È caduta lei Mi spingi Non ci sono io Era nello stesso gradino Dolcetta È lei che cade Soffri Dai basta 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 Ascolta Devi stare ferma Ok Ti spono da una parte Devi stare ferma Ne abbiamo tre stack Sicura Ehi Ah ok Ancora Sei sicura Mi sa che sta la cassa Ok ci sa Oh no è cresciata dall'universo Vai ivy Sei rimasto solamente tu Vai a prendere il diamante Sbrigati Ah me ne pentirò vero No Sì assolutamente sì In modo anche atroce Vuoi una mano? No 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 Da sola Da sola Di nuovo Ma sei stupida o cosa? Oh ragazzi io non sono Io Cioè io Si sta autotrollando Vedi che brava È maltochismo questo No io Allora io mi starò Ma perché sono Dove sono? Mi sono vasto a mezzo seconda Seconde sono ricadetassi Ma è vero possibile? Non è vero Non immaginavo Tranquillo Non ci rimangeremmelo male Però 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 Che cos'è che hai? Vuoi vedere cosa hai? Perché non è preso quei diamanti Non è preso quei diamanti Ma sai perché? Sai perché? Perché Avrai questi Guarda qua Ah funziona per rompere le cose Però per darci Ci premino Eccolo qua Eccolo qua Tutto vostro Ok Tutto vostro Ma un po' eccitare così No dai non è eccitare Poi il diamante serve poco Su minecraft Vabbè fai conto che dobbiamo prendercelo da sole Almeno quello No Lo sapevo Va bene No Però è rimasto questo diamante qua Ok è rimasto questo diamante qua Quindi Vi lascio queste due pallozze gigantesche di diamante Che ne trovate sicuramente un casino Io vi lascio Buonanotte ragazze Buonanotte Buonanotte Grazie Non ti possiamo ringraziare Lasciate stare il video Cosa ne pensate che io vi vengo ogni volta a rompere le scatole Perché state costruendo State facendo altro Cosa ne pensate? Quanto si alza la mia antipatia? Ma tipo tantissimo Non ti odiamo però Cosa ne pensate?